Obiettivi raggiunti, servizi svolti e progetti attivati. È stato presentato questa mattina alla stampa il bilancio dell'ambito territoriale sociale 6 che lo scorso anno ha dovuto affrontare un lavoro impegnativo per sanare la pregressa situazione critica e per riattivare alcuni percorsi che si erano rallentati o interrotti. Infatti sono stati messi in campo progetti sia a sostegno delle persone non autosufficienti sia a contrasto della povertà con l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Inoltre sono state svolte iniziative per la prevenzione del disagio giovanile ed è stato potenziato l'ambito stesso che grazie ai fondi europei intercettati, pari a circa 1.400.000 euro, ha potuto aumentare il personale con 11 persone aggiunte allo staff. Ci teniamo a questa trasparenza nei confronti dei sindaci che mi hanno dato questo mandato di dirigere questo ambito territoriale ma nei confronti anche della cittadinanza. Poi c'è un altro elemento molto importante che è quello che a mano a mano che la macchina organizzativa comincia a camminare, comincia a sviluppare tante cose, la cittadinanza venga a conoscenza di quello che si sta facendo per interagire con il terzo settore, con i no profit e con la cittadinanza tutta perché altrimenti rischiamo di stare chiusi negli uffici e non intercettare tante risorse presenti nel territorio. Noi riteniamo che oggi un welfare di comunità è un welfare molto importante in cui l'ente pubblico sta nella regia, valorizza i suggerimenti che arrivano dall'esterno, orienta le attività già presenti nell'esterno da parte di altre organizzazioni e soprattutto del no profit e insieme speriamo di fare quella sinergia che costruisce un benessere nel territorio. Questa collaborazione ha portato il passaggio di diverse attività in capo all'ambito grazie anche al supporto dei comuni di riferimento di cui Fano è l'ente capofila. Prova ne è per esempio la risposta che stiamo dando al REI, il reddito di inclusione attiva, che sta dando risposte a molte famiglie dell'ambito territoriale e che è dislocato rispetto ai servizi sociali e anche all'ambito stesso proprio favorendo anche una maggiore riservatezza in risposta a questo tema. Diciamo sono tante e numerose le azioni che stiamo mettendo in campo perché il welfare ha bisogno di questo e di tanto altro su cui lavoreremo e vi daremo poi successivamente anche altre informazioni. Poi ci dirà Riccardo gli dettagli anche... Grazie. 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 Grazie.